Manuel è sfuggito a regime di Salazar in Portogallo quando era 18enne. Si è trasferito in Francia dove ha trovato la morte a 63 anni nello Stade de France. È la prima vittima degli attentati di Parigi che hanno ucciso 130 persone. Il giornalista Paolo Broggi sta cercando di raccogliere i nomi di tutti attraverso un lavoro meticoloso di ricerca, sfogliando giornali locali o tramite segnalazioni via web. Al momento i nomi rintracciati sono 124, di questi 119 hanno anche un volto. Tutti hanno una storia che vale la pena raccontare. Le loro foto sono sulla pagina Facebook Generazione Bataclan. Il problema era di dare oltre lo scontato, e cioè un 90-95 volti per capirci, quei 25 volti in più che ci sono nella pagina e che sono stati trovati appunto con un lavoro anche collettivo importante. Ci sono storie che nessuno avrebbe raccontato, storie che insieme fanno luce su aspetti trascurati, come gli eroi del Bataclan, Yannick ad esempio, che ha perso la vita facendo da scudo a un'amica, o storie di due gemelle morte insieme, o ancora quella di una ragazza svedese impossibile da identificare. Un grande paese, la Svezia, che ha fatto di tutto per cancellare la memoria e la presenza di una vittima, che è una giovane ragazza di 25 anni, di Vasteras, di cui ha scritto qualche giornale localmente in Svezia e niente più. Oppure la storia di un'altra donna senza nome, ma solo, moglie di. La moglie del poliziotto Thierry Arduen, che era con lui a cena in un ristorante per festeggiare il compleanno di lei, è rimasta la femme du policier, la moglie del poliziotto. Il metodo Thierry Arduen che muore a casa sua attraverso una finestra, forse per un colpo di rimbalzo, o comunque una pallottola che gli penetra nei polmoni, è lo stesso problema che si è trovato nella storia della letteratura un grande scrittore come Thornton Wilder, quando ha cercato di spiegare perché cinque persone erano su un ponte in un terremoto in Peru nel 1700. E cioè perché succede che uno possa morire in questo modo a casa sua? Grazie per la visione!